Ilunga Axe è ricorso al suo profilo facibodok per fare un importante annuncio. Il cantante si è visto quasi costretto a svelare un momento delicato ed emozionante della sua vita privata. Mentre era in compagnia della moglie Elena Cocker modella sposata nel 2007 si è accorto di essere inseguito dei paparazzi, in cerca dello scoop. Ilunga Axe ha preferito dare lui stesso, la notizia che i fotografi cercavano. Presto, l'artista diventerà padre. Le sue parole, affidate a un post, sono state. Oggi, mentre accompagnavo mia moglie, ci siamo accorti di essere seguiti dai paparazzi. Avrei voluto ottenere per me questa bella novità, ma evidentemente qualcuno pensa di farci su uno scoop, quindi glielo brucio ora. Prima di tutto la buona notizia. Siamo in dolce attesa. Ilunga Axe, poi, ha chiesto il rispetto della privacy, dato il momento delicato. Troppo stress potrebbe portare a complicazioni. Faccio questo post per chiedere di rispettare la nostra privacy, la gravidanza è un periodo molto delicato e qualsiasi stress può comportare seri problemi e conseguenze. Essere inseguita nel traffico dagli scooter può terrorizzare una persona non abituata a questo mestiere, non si scherza con queste cose. Cari gossipa rimollateci, agli amici e voi tutti farò sapere com'è andata a giochi conclusi. Incrociate le dita per noi, grazie a tutti. Buon weekend. Due milioni di nipoti e uno. Chi se ne frega.